Assessore Diodati, fra poche ore ci sarà l'esordio stagionale del Pescara allo Stadio Adriatico. L'amministrazione comunale ribadisce che la partita di Coppa Italia con il Frosinone si giocherà allo stadio. C'è ancora qualche piccolo lavoro da completare, però la struttura è pronta. Ma sì, i lavori, insomma, diciamo che la buona parte dei lavori oramai è completata. So che già ancora in questo momento ci sono delle squadre che stanno portando a termine gli ultimi piccoli lavori di risistemazione, ma noi ci presenteremo già domani con il nuovo look del nostro stadio. Domenica prossima con la prima partita in Serie A, insomma, tutto sarà assolutamente pronto e se ci sarà ancora qualche piccola cosa da sistemare la sistemeremo in questa settimana. Il campo è stato completamente rizzollato, per cui voglio dire adesso qualche piccolo problema dal punto di vista estetico il campo lo presenta, però già dalla prossima settimana, fra una settimana e dieci giorni, sarà tutto assolutamente in linea e perfetto per poter accogliere la Serie Acqua e Pescara. Stadio Adriatico, assessore che ospiterà anche, si attende solo l'ufficialità, la prima partita casalinga del Crotone che dunque giocherà all'Adriatico. Sì, sì. Noi abbiamo un rapporto, insomma, abbiamo avuto comunicazione da parte dell'amministrazione comunale di Crotone che loro forse non riusciranno a concludere i lavori di sistemazione dello stadio, sicuramente per la prima partita, per cui, insomma, accoglieremo molto volentieri e ci sarà l'opportunità per i tifosi pescaresi di poter andare a vedere un'altra partita di Serie A.